Siamo in piena campagna per il referendum costituzionale che si terrà ad ottobre e noi insieme con molti altri cittadini italiani, professori, partigiani, giovani, stiamo cercando di fare iniziative e discussioni davvero nel merito della riforma costituzionale. Renzi ha impostato tutto su un plebiscito su di lui, noi ci stiamo ostinatamente spendendo per spiegare perché bisogna votare no a questa riforma costituzionale, perché la riteniamo lesiva dell'impianto generale del sistema democratico e della Costituzione che ci hanno lasciato i nostri padri e madri costituenti. Perché rafforza tantissimo il potere dell'esecutivo e nella fattispecie del Presidente del Consiglio, tanto è che è una riforma che noi riteniamo presidenziale senza dirlo perché almeno nelle elezioni diretta come negli Stati Uniti del Presidente della Repubblica ci sono i contrappesi, cioè il Congresso o il Senato hanno poteri molto forti, qui viene completamente svilito il potere del Parlamento e il potere dei cittadini, da cittadini a sudditi potremmo dire. E questa riforma bisogna leggerla poi con la legge elettorale, cioè con l'Italicum, che nei fatti dà tutto il potere di nominare i deputati alla Camera dei Deputati al capo del partito, che sceglie perché saranno ancora una volta di fatto la maggior parte eletti bloccati e quindi il segretario del partito che vincerà il futuro Premier avrà la maggioranza dei deputati che si è scelto, i cittadini non conteranno nulla e da solo, senza nessun altro, potrà eleggersi il Presidente della Repubblica, i giudici della Corte Costituzionale e il CSM, quindi che sono gli organi che dovrebbero fare da contrappeso, insomma, perché l'essenza dei sistemi democratici, liberal-democratici, è quella appunto di un potere, di una separazione dei poteri e di un sistema di bilanciamento.